Colloquio telefonico tra il capo dello Stato Mattarella e la presidente della Grecia, Caterina Sakellaropoulou. Una telefonata durante la quale hanno espresso forte preoccupazione per l'emergenza climatica che sta colpendo con violenza la regione del Mediterraneo. La Sakellaropoulou ha ringraziato l'Italia per l'invio di mezzi aerei e per far fronte agli incendi che stanno colpendo la Grecia. Incendi che ha ricordato Mattarella stanno interessando violentamente anche l'Italia. I due presidenti hanno sottolineato la necessità di un'iniziativa congiunta da parte dei paesi dell'Europa del Sud per affrontare i rischi climatici nel Mediterraneo.